Donna 34enne per giudicata e denunciata per essere evasa dai domiciliari, finisce ancora ai domiciliari. Nella giornata di ieri, nel corso dei cuteriani in servizio a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agente delle volanti hanno denunciato per il reato di evasione una donna di 34 anni sottoposta al regime degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio estupefacente che risultava essere assente al controllo. Per tale evento il tribunale del capoluogo seracusano aveva disposto per lei gli arresti domiciliari nel suo domicilio ma nel mese di novembre durante un controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni i poliziotti non l'hanno trovata in casa denunciandola alla procura di Seracusa per il reato di evasione.